Terra Amara, Tram e Turchia, Muigan prova a far passare Alton come pazza. Le anticipazioni di Terra Amara provenienti dalla Turchia si concentrano su ciò che accadrà all'inizio della terza stagione della SOP. Saranno attimi di alta tensione quelli che delineeranno le vicende che vedranno protagoniste indiscusse le due rivali Zuley e Muigan. La dottoressa, completamente plagiata dalla perfida Beyce, scoprirà che Alton è ancora viva. Muigan penserà bene che per evitare di essere accusata di omicidio l'unico modo è quello di far passare Zuley a per pazza. Ma quest'ultima, decisa a non subire più, passerà all'attacco e minaccerà la sua nemica affermando che la guerra è appena agli inizi. Proseguono le anticipazioni dei Terra Amara, concentrandosi su Zuley e Muigan. Seguendo la storiline della seguitissima SOP turca, la dinamica in questione prenderà al via nel momento in cui Beyce proverà ad uccidere Zuley e approfittando di un ricovero della donna dovuto ad un avvelenamento provocato da una pentola di rame mentre si troverà in carcere per aver sparato a Demir. Alton si risveglierà appena in tempo per impedire che avvenga il peggio, ma nessuno crederà al suo racconto. Quando Zuley uscirà dal carcere, Beyce temendo di poter essere accusata di tentato omicidio, falsificherà una lettera fingendo che Alton abbia scritto a Yilmaz confessandogli che Adnan è suo figlio. La lettera capiterà di proposito tra le anni di Muigan che a questo punto perderà la testa e dando appuntamento con l'inganno a Zuley nel bosco la spingerà ad impiccarsi minacciandola con una pistola. Zuley si rifiuterà di eseguire l'ordine e di conseguenza tra le due donne si verrà allo scontro fisico durante il quale partirà un colpo di pistola che prenderà Alton nel petto vicino al cuore. La dottoressa fuggirà con la macchina della zia pensando di averla uccisa. In realtà, con un delicato intervento riuscirà a salvarsi e sa da un lato Demir si pentirà di aver impedito alla moglie di vedere i suoi figli e non si opporrà quando un car li porterà in ospedale. Dall'altro Muigan avrà paura delle possibili conseguenze. Nel frattempo, Zuley deciderà di non raccontare a nessuno del modo in cui si è ferita, preferendo mantenere il segreto. Intanto, seguendo i perfidi consigli di Beice, la dottoressa si introdurrà nella stanza d'ospedale in cui è ricoverata la rivale e cercherà di farla passare per pazza. Ma stavolta Zuley si mostrerà agguerrita. Altum minaccerà Muigan affermando che lo scontro non è che è l'inizio e che presto si vendicherà di lei. Cosa vorrà fare Zuley? Per seguirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di terra amara. Che rivelano già che Zuley colpirà Muigan proprio nel suo punto debole. Grazie. 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 Grazie.